ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale ebbene sì ragazzi e a grande richiesta il ritorno dei podcast proprio qui sotto casa c'era la fila quando rifai podcast quando rifai podcast e oggi il grande ritorno del buon giorgio qua ci sta un applauso spaccato il tasto like iscrivetevi non lo so non vi buttate dalla finestra perché dico mi dissocio parola al buon giorgio io sono tornato ma passavo proprio davanti a casa di claudio ho visto una folla e quindi ho detto che succede e sono ritornato sono qui per caso insomma buongiorgio a tutti era da un po che non lo dicevo in effetti c'era veramente un grosso vuoto ecco che detta così è pure un po brutta però cercheremo di colmarlo in questo podcast ragazzi che susciterà parecchie polemiche secondo me io sarò nel ruolo del windows centrico quindi io uso windows e non voglio usare nient'altro e il buon giorgio coprirà il ruolo del pinguino quindi linux forever quindi va bene io direi di partire subito con il perché usi linux e perché secondo te dovremmo usarlo ecco andiamoci così allora una parola sola libertà 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 e libertà libertà di poter sfruttare senza nessuna virgolette limitazione il vostro sistema di avere il pieno controllo e di cucirvi addosso esattamente quello che vi serve vi dà libertà anche di impegno nel apprendere ecco e io subito ti rispondo perché un po una partita di ping pong rimandando la palla nel tuo campo con io non mi sento oppresso da windows perché sento dire sempre ama windows ti viene imposto nel computer si acquisto il computer con windows preinstallato però non è che come si suole dire me lo prescrive il medico di lasciarlo su io ho già il il computer pronto all'uso con la mia bella licenzina perché si voi windows ve lo scaricate craccato c'è da dirlo poi vi fate il dual boot per fare i fighi con linux mentre che noi lo usiamo preinstallato o acquistiamo una licenza d'uso che oltretutto non costa neanche chissà quanto e lo utilizziamo così one shot ecco io so che io già io già contrabbatto con un mi state imponendo una licenza nel senso che purtroppo nel panorama della vendita retail di pc non è facile trovare un computer senza nulla cioè vorrei poter essere io a decidere se installare o meno ad esempio windows se proprio la vogliamo mettere così perché io non è che sono costo devo essere costretto da qualcuno a trovarmi già quel sistema operativo cioè non è non è corretto anche perché quel sistema operativo giustamente fa anche alzare i costi del mio acquisto quindi non è corretto insomma secondo il mio modesto parere falsa falsare i costi del tuo acquisto nì perché se consideri che è compreso nel prezzo la vedi in modo diverso perché di certo le varie windows non penso che ti levi chissà quanto dal potere vai a vedere ad esempio sul costo di licenza e non con le chiavi che si vanno a comprare nei siti così cosa ma se vai a vedere il costo di licenza di windows home comunque si va sui 60 70 eurini quindi insomma non è proprio carino io quei magari quei 60 70 euro li avrei voluti investire magari che ne so in una mausa in un paio di cuffie o quello che voglio io andare magari anche mangiarmi una bella pizza però però con quei 60 eurini hai comunque una licenza che ti consente di usare il sistema operativo e poi come hanno fatto un windows 10 e poi con windows 11 ti omaggiano il passaggio al nuovo sistema operativo altro esempio linux su zorin os c'è la versione a pagamento 40 euro per offrirti dell'assistenza anche lì a questo punto sto su windows e mi evito comunque di dover pagare un'assistenza che poi bisogna vedere anche la qualità di questa assistenza perché si ma quello ovviamente bisogna anche considerare che come anche microsoft ricordiamo si è mosso in una direzione ovvero quella di venderti un appunto un'assistenza un prodotto non inteso come tanto sistema operativo ma come il contesto che c'è c'è intorno i servizi ad esempio ubuntu faccio un esempio ti offre un servizio di appunto assistenza sul server e su altre cose che sei liberissimo meno di acquistare ma comunque il loro sistema operativo base te lo scarichi lo installi se ti piace e te lo tieni su poi ovviamente c'è chi mi inizierà a dire ah ma su su linux non c'è questo non c'è quest'altro non c'è quel 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 programma beh bisogna anche un attimo fermarsi aprire gli occhi e spaziare e non essere ottusi nella visione in cui esiste solo adobe esiste solo quello e basta ci sono tante cose che comunque possono andare incontro all'utente medio base perché non sono tutti i professionisti che hanno bisogno di photoshop per fare la modifica di una foto e schiarire lì ti vengo leggermente incontro perché concordo con te che nel panorama windows non esiste solo il mondo adobe o comunque c'è ragazzi non vi dovete fossilizzare con photoshop esiste solo quello perché vi posso garantire che si pago una licenza d'uso allo zio bill utilizzo un sistema natema chiuso commerciale ma utilizzo un fiume di programmi open a partire da obs programma con il quale stiamo registrando questo podcast telegram e posso continuare con gimp lo stesso shot cut con il quale ho editato un sacco di video che del live eccetera eccetera quindi qui do ragione al buon giorgio dove serve comunque anche per usare windows una mentalità un pochettino più elastica perché poi mi arriva l'utente linux e mi chiede come installo beats defender su linux come installo una vpn per windows su linux io ti rispondo usa windows perché non esiste al mondo un atteggiamento del genere vuoi fare l'open o vuoi la pappa pronta di windows su linux punto di domanda su questo ora ti posso dare sposto anche darti ragione nel senso che comunque sia bisognerebbe imparare a capire a studiare quello che si sta utilizzando nel senso non è che usare linux fa figo e per il nerd di turno la scienziata ma io parlo da utente linux da ormai quasi vent'anni quindi posso dirmi abbastanza navigato in e ho sbattuto in tanti tanti problemi io ho cominciato ad usare linux che non riuscivo a fare andare il modem adsl perché non c'erano i driver ti faccio un esempio quindi comunque sia ho imparato a capire e a studiarlo questo sistema operativo ne ho provati tanti mi sono sempre scontrato con un problema ma io sono fatto non si sente abbiamo perso il buon giorgio ma lo richiamiamo subito è caduto cosa è caduto amici è caduto windows è caduto no è caduto windows no è il tuo linux che non ha retto la qualità ma quando mai che io sono sempre qua che t'aspetto t'aspetto mi si voleva zittire mi si voleva tarpare e mettere un bavaglio i poteri forti con i poteri forti comunque stavo per dirti il discorso di anch'io combattuto con i driver perché all'inizio non c'erano eccetera questo volendo avveniva anche nelle prime versioni di windows però io ho i produttori che mi producono l'hardware e i relativi driver compatibili già con il mio sistema che vado a utilizzare io stesso insieme a te abbiamo implementato l'uso dello string deck su arch dove ragazzi non è proprio semplice quindi il sottoscritto sta facendo la parte del windows centrico ma il mondo linux lo conosce non dico da vent'anni come il buon giorgio però dalle prime versioni che vendevano in edicola di ubuntu ovviamente ovviamente noi stavamo recitando una parte io non sono un fanboy volevamo farvi entrare nell'ottica di quanto si può essere veramente virgolette ottuzi e non avere un'apertura mentale bravo silizzarsi solo su un punto di vista quando in realtà non è così io nell'altra nell'altro partizione o comunque windows perché per carità e come dicevi giustamente tu io quella licenza ce l'ho windows ce l'ho e mi piace tenermi anche informato sul panorama complessivo di quello che il mondo del tech dell'informatica del sistema per esempio di recente vi invito a seguirmi su instagram se ancora non l'avete fatto angolo di claudio ho pubblicato una fotografia che ora poi metterò all'interno di questo podcast lo so è un podcast però ci metto questa foto dove mostravo la cronologia dei miei aggiornamenti di windows perché senti vari gruppi telegram ancora aggiornamenti mamma mia ma quanti aggiornamenti fa windows nello specifico windows 11 ma ho usato anche il 10 il set eccetera ora nelle vecchie versioni vi posso dare ragioni in effetti c'erano parecchi aggiornamenti fino a che poi ricevevi semplicemente quelli di sicurezza uso windows 11 praticamente dal primo rilascio di microsoft sul sito ufficiale ora già non mi ricordo da quanti mesi ma si può dire da inizio anno contestualmente con l'acquisto del nuovo computer ragazzi come potete vedere nella foto ci sono da febbraio a maggio si e no tre aggiornamenti ogni mese per giunta alcuni di questi sono piccoli aggiornamenti dovuti a windows defender l'antivirus integrato da windows 7 credo che ci sia quindi neanche me ne accorgo che li scarica gli aggiornamenti un poco più pesanti che richiedono un riavvio finalmente sono stati resi discreti cioè quando io vado a spegnere il computer mi dice guarda dovrei fare questa cosa vuoi che spengo e aggiorno vuoi che aggiorno il riavvio quindi tutto sommato io neanche me ne accorgo di questi aggiornamenti ora di recente di nuovo la polemica windows merda troppi aggiornamenti linux bellissimo bla 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 per ora stiamo andando in controtendenza perché ho visto diverse distro che ti dicono devo riavviare ho scaricato l'aggiornamento e lì cioè io dico sono su windows o su linux perché notoriamente linux bene o male aggiorni poi sì vabbè se vuoi fare il riavvio male non ne fa però andava tranquillo ma io io una mia visione sulla questione degli aggiornamenti che secondo me trovo una polemica scusatemi ma stupida nel senso che ma ben vengano che ci siano gli aggiornamenti cioè nel senso quando sono migliorativi ovviamente abbiamo fatto anche una chiacchierata ai tempi con claudio che ci sono degli aggiornamenti che portano le versioni a essere peggiorate discorso con che avevamo fatto con olive ad esempio tolto 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 quelle situazioni lì secondo me un po un po astruse poi ovviamente abbiamo cambiato anche il pensiero perché giustamente un programma riscritto da zero ha le sue problematiche e secondo me l'aggiornamento di per sé se è un aggiornamento che va a correggere limare migliorare un programma ma ben venga che ci siano io ad esempio ho qua il mio telefono il mio oppo reno 2 che non sarà più aggiornato e a me sta cosa fa incazzare nel senso che è un prodotto che ahimè una parte gli aggiornamenti di sicurezza non vedrà più tutte quelle migliorie che comunque questo benedetto telefono potrebbe tranquillamente supportare perché comunque ha una scheda tecnica di tutto rispetto per quanto riguarda il mondo linux e windows io ritengo che gli aggiornamenti siano essenziali e il fatto che li propongano e che comunque sia ci sono e li si facciano vuol dire che c'è dietro un team che sta comunque lavorando per migliorare il proprio prodotto e infatti io comunque windows 11 che comunque sto testando lo sto testando perché ci sono delle cose che hanno introdotto che comunque non mi dispiacciono ho visto migliorare nel corso di questi mesi dall'inizio del rilascio e per quanto riguarda invece linux adoro il fatto che sia un continuo divenire cioè nel senso io sono su arch quindi è una è un aggiornamento continuo quindi è un po rischioso non lo consiglio a tutti l'utilizzo di arch consiglio un lts di qualsiasi cosa sono io che sono un pazzo virgolette mi piace comunque avere un sistema con continui continui rilasci e quindi onestamente trovo la polemica un po un po strana non riesco a capirla cioè i quali del riavvio qual è il problema ma infatti ma infatti qual è il problema di schiacciare riavvio cioè il riavvio consente alla macchina di ricaricare tutti i moduli tutte le varie cose e avere un sistema virgolette pulito nelle sue funzionalità cioè più stabile cioè non capisco quale problematica ora di recente tu l'hai seguito è vissuto in prima persona i driver nvidia che sembra un passo avanti ecco visto anche un pochino il video di moro linux dove poi è dovuto fare una sorta di bassettino indietro di secondo video diceva mi ero tra virgolette illuso non è tutt'oro quello che luccica ricordiamoci innanzitutto che nvidia dico è un'azienda che lì per fatturare ecco questo lo dicevo l'altro giorno in privato nel nostro gruppetto telegram c'è in sombra di dubbio di coinvidia lì per fatturare il discorso dell'open anzi devo dire lo stanno coltivando parecchio complice steam complice che con quel gaming sta crescendo su linux e quindi c'è tutto l'interesse per avere dei driver veramente prestanti però dico non possiamo aspettarci un'apertura totale c'è anche la stessa microsoft che vuole abbracciare l'open entrando se hai comprato github per dire esatto dico ricordiamoci sono mostre commerciali per comunque dei fini brutti mamma mia vogliono fatturare quello che fa l'azienda c'è un'azienda deve fare soldi ma anche con l'open source li si fa non si creda che infatti linux non non con linux non si guadagni quasi la maggioranza dei server sono basati su linux quindi tutto quello che gira il sistema informatico il web e poggia su un'infrastruttura che ricordiamoci che le distor principali che hanno dietro canonical eccetera cioè sono aziende nel vero senso della parola lì per fatturare poi lasciate perdere che il progetto viene lasciato open lo puoi utilizzare non ti chiedono un euro o neanche donazioni per eventualmente supportare il progetto quello dico è un'altra cosa perché comunque io cambio questa parte di codice tu quella l'azienda ne traggo un beneficio però un discorso dove tutti solitamente mi danno ragione è la benedetta dispersione delle forze nel mondo linux perché io da grande appassionato del mondo linux scusatemi se ve lo dico mi sono rotto le scatole di starci dietro perché sceglievo che ne so linux mint ah questa sarà la mia distro bellissima mi ricordo quella 18.04 che per me era anzi 14.04 che per me era fantastica o la 17 qualcosa ora non ci penso comunque erano tutte e due veramente ben fatte dopodiché salto di versione questo non va più mi registra scatti cioè dobbiamo entrare nell'ottica di chi usa il computer per realizzare contenuti qui su youtube per lavorarci privatamente con aziende tech developer eccetera per l'uso proprio giornaliero email eccetera io non posso dover risolvere ogni volta problemi che magari non avevo sulla vecchia lts perché si è aggiornato il kernel la mia scheda non è più tanto compatibile poi per carità ci sarà il mandrake di turno nei commenti e ma perché non sai smanettare si fa così sì sì no secondo me la il tutto deve nascere basando partendo dal ragionamento base che cosa mi serve che cosa devo farci con il computer e partendo da quel presupposto e partendo anche da quelle che sono le tue capacità la tua voglia anche di cimentarti con con il sistema operativo allora fai una scelta nel senso nella stragrande maggioranza delle volte le persone hanno bisogno di un sistema che funzioni con un sistema che ti permette di elaborare i testi quindi office o le alternative o lì office libre office o quello che c'è consultare il web ascoltare un po' di musica guardarsi un video o stampare attaccando una stampante e modificare due foto cioè questo è l'uso medio che secondo me le persone ne fanno e in questo caso secondo me se le persone avessero una distro linux io ovviamente spingo su quello semplice utilizzando programmi come chrome che ne so un gestore di posta un qualcosa che ti facciano ritocco facile veloce a due foto e altre due robe che tu sia su windows che tu sia su linux onestamente non cambia niente in questo caso ti dirai per questo uso usa linux e risparmiati i costi di una licenza ma quando invece si tratta del professionista che deve avere ad esempio faccio un esempio il video maker già lì ti girano le balle almeno parlando così da appassionato linux perché devo vedere un programma come da vinci resolve o resolve che ah no vabbè poi in descrizione ci diranno come si scrive si dice esatto esatto quando vedo lo stesso programma distribuito per linux distribuito per windows quando tu decidi di comprarti anche la licenza e lo usi su linux e lo usi su windows vedi che su linux comunque zoppato e su windows funziona meglio a me da utente linux girano le balle ma da persona con una minimamente concezione delle cose e buon senso ti dico installati windows e usalo su windows ma che poi comunque non puoi fare altrimenti perché sennò ti azzoppi il lavoro ma poi questo le tu l'hai vissuto in prima persona con me che insieme avevamo ottimizzato il mio computer con arch devo dire che ragazzi benissimo girava veramente bene solo che poi io iniziai a mettere mano con da vinci resolve sotto il mio consiglio tra le altre cose esatto sotto il tuo consiglio per fortuna aggiungo perché sennò dico un paello ti saresti incazzato e lì appunto esperienza super castrante perché comunque io avevo tutte le clip in mp4 e doverle convertire tutte che poi per carità dico volendo era fattibile però poi tutte quelle nuove che ti scarichi o comunque ti passano molto probabilmente saranno in mp4 e quindi stai lì a riconvertirle e tempo e tempo e tempo che poi tempo e danaro il tempo sono soldi è il più grande e la più grande moneta che hai da spendere se anche se hai 25 video da lavorare se devi convertire 25 video e sono cinque minuti a video insomma lì tutti sono ore che perdi di lavoro e di soldi sì e poi oltretutto questo purtroppo tolto questo discorso di da vinci che era bypassabile andai incontro anche al problema driver nvidia perché ai tempi aveva una gt 730 mi ricordo neanche chissà quale scheda e avevo difficoltà perché comunque i driver nuovi ogni volta si è bloccato il boot perché non li vede e scrivi che si compilava al modulo esatto quello è un problema che c'è adesso dovrebbe essere risolto con questa pseudo introduzione sicuramente linux fanboy nei commenti mi dirà vabbè pure tu anziché usare arch installati una ubuntu che è pronta all'uso bellissima scrocchiarella e tutto gli aggiungo che con ubuntu avrei avuto ancora più problemi ma anche con linux mint perché comunque ne abbiamo provate veramente diverse e anche i video che vedete nel canale cioè non è che li provo semplicemente su virtual box moltissime le ho provate usate su pc direttamente real hardware così abbiamo detto l'altra cagata in inglese mi sono emozionato esatto dimmelo con la voce calda e così mi emoziono pure io però dico arrivato a un certo punto mi ha detto Giorgio il tempo è denaro ho preso la decisione ho detto guarda formattiamo tutto che si vuol dire cancellare i dati perché ho sentito anche una stronzata del genere quindi mi cancelli i dati si formattare è quello cancellare i dati l'altro giorno ho letto questo messaggio nel gruppo e sono morto alle risate però le persone dicono anche questo allora aggiungo un po guarda la prossima volta facciamo per tu che ci punterà il dito faremo una formattazione a basso livello ok e vabbè io non sono neanche laureato quindi non so che cosa hai detto a basso livello questa è una semi cheat ecco io rompo il microfono e quindi ritorniamo appunto a windows 10 che poi aggiornato a 11 e ragazzi io tutto l'hardware che ho lo riconosce senza alcun problema salvo qualche eccezione ne so il software della tastiera nuova della cooler master da qualche problemino però arrivato a un certo punto non mi gestisco via software l'rgb lo uso con il tasto funzione e gli altri tastini e bon lavoro ma anche il mitico per rgb che mi avevi consigliato riesce a gestirlo neanche quello quindi però per dirvi non è una cosa che mi condiziona il lavoro cioè non me ne frega niente se la tastiera è arancione piuttosto che arcobaleno ecco e sentirmi dire anche ah ma windows è un continuo problema ragazzi io l'ho installato a gennaio siamo a maggio ho avuto mezza schermata blu dovuta dal fatto che ho uso una scheda di rete un po vecchiotta ho trovato un sito insieme al signor dennis dove c'era il driver aggiornato per windows 10 l'abbiamo installato in due click ci ho dedicato anche un video sul come identificare l'errore della schermata blu dico ogni tanto guardatevi video che male non fa sì 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 esatto e abbiamo risolto il problema cioè ci ho messo neanche 5 minuti scarica il driver installa e via ovviamente che tu sia su windows che tu sia su linux un problema bene o male lo trovi quello che potrebbe capitare l'importante è avere quell'apertura mentale che ti permette di cercare una soluzione ed è per quello che io ritorno al mio è bene conoscere un po tutto e poi basandosi sui propri gusti sulle proprie attitudini su quello che ti serve è fare una scelta libera ma poi soprattutto fare una scelta libera non vuol dire o solo linux o solo windows bravo volendo tirare le somme di questo podcast che vedo che siamo quasi sui 30 minuti cioè vi cambia la vita mi cambia la vita sapere che il buon Giorgio usa linux piuttosto che windows o che Claudio parla di open e poi alla fine c'è windows io non credo proprio quindi no con questa considerazione io vi dico vi trovate bene con linux benissimo però non venite a scrivere o comunque a chiedere a chi che sia come installo adobe photoshop o adobe photoshop come lo volete chiamarlo lo chiamate su linux perché sia io che chiunque altro con un po di sal in zucca vi dirà usatelo su windows usalo su mac al momento al momento sì cioè fino a quando i produttori non decideranno di rilasciare il programma su anche linux ovviamente certo ci sono le modalità per fare delle cose anche su su linux per utilizzare per dire giochi e quant'altro ma il panorama game secondo me è un capitolo a parte sì lì meriterebbe veramente un video dedicato dedicato sì comunque è un argomento molto vasto e soprattutto se lo fai lo devi fare bene diversamente sì ormai credo che il mondo game linux windows quel che le si è si è proprio unificato si sta praticamente andando a sovrapporre perché giocare su linux e giocare su windows ormai stanno diventando praticamente la stessa la stessa identica cosa ormai inizia davvero ad esserci da non esserci più differenza però invece per quanto riguarda davvero la questione dei programmi professionali come può essere o un suite microsoft office o un adobe tutto il suo pacchetto eccetera eccetera io in quel caso consiglio sempre di utilizzarlo là dove è pensato per essere usato quindi su windows o su mac o così via capitola parte da vinci che mi girano le balle a pensiero vabbè ma lì siamo siamo sempre lì è dovuto anche da molti codec che asseriscono che non possono mettere su linux perché licenza è quello che mi fa è quello che mi fa incavolare perché non è vero perché loro utilizzano la libreria e utilizzano ffmpeg per quanto riguarda la conversione eccetera eccetera dei video lo usano anche mi sembra su windows e quindi non capisco perché non non abbiano compilato ffmpeg su linux con tutti i code come ha fatto su windows secondo me sono una grandissima cagata quello che dico sono i misteri di black magic poi magari un giorno mi contatteranno i signori di black magic chiedendo una collaborazione cioè mai e mi diranno guarda noi non li mettiamo per questo motivo però io voglio ringraziare il buongiorgio innanzitutto per il ritorno nel canale perché ragazzi scusate se mi incendio perché c'è c'è questa vena polemica e passionale che mi parte no ma dico io ho richiesto la tua presenza proprio per quello per avere le due campane e vabbè a parte il clacson che ci sta sempre e appunto condividere un attimino i due punti di vista io bene o male non sono stato mai radicale uso windows fanculo linux o uso linux fanculo windows diciamo che sono sempre stato un po' nel mezzo mi piacerebbe l'approccio al mondo mac e chissà magari un giorno investiremo anche sotto quel profilo però ragazzi c'è nel senso vivi e lascia vivere ecco il messaggio finale che voglio dare in questo video è vivi e lascia vivere se ti piace il mondo apple benissimo però non crocifiggere gli altri con usavo apple e basta l'estremismo è sempre una brutta cosa essere estremisti in qualsiasi situazione campo della vita lavorativa morale eccetera eccetera è sempre è sempre una brutta cosa lo dicevano gli antichi che nel mezzo sta il giusto e secondo me tanto torto non avevano insomma esatto quindi concludiamo con la verità ci renderà liberi io vi ringrazio per aver visto il video vi ringrazio per tutto il supporto che state dando al canale stiamo crescendo anche su instagram piano piano un po' all'umachina ma stiamo crescendo vi ricordo tutti i link in descrizione vi lascio anche il canale del buongiorgio il video dell'anno già l'abbiamo pubblicato quindi non rompete non rompete le scatole al buongiorgio perché stiamo elaborando il video del 2023 23 insomma e sarà una chicca una chicca e sarà una chicca non pensate male e quindi tutti i link in descrizione se volete da pochissimo ho la possibilità di farmi ringraziare con il super grazie quindi vedrete un cuoricino qui sotto al video dove c'è scritto grazie farete una piccola donazione al canale vi fa scrivere anche un messaggio l'hanno sbloccata da poco perché sto arrivando quasi a 5000 iscritti e quindi youtube mi ha detto grande Claudio mi ha detto si dai sei meno barbone di sempre ti abilitiamo super grazie mi consenta mi sci cosciente esatto bene ragazzuoli io vi ringrazio per aver sentito questo video più che visto e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao ciao